17 giorni di attivismo contro la violenza di genere, un fenomeno presente eppure poco visibile. Un fenomeno presente e poco visibile purtroppo in grande aumento. Il mio assessorato unitamente ad Ananche, che è lo sportello antiviolenza che collabora con il Comune, questo lo ricordo perché è veramente un'opera molto importante, metterà sotto la luce dei riflettori questo fenomeno che veramente sta diventando troppo troppo triste per tutte quante le donne. E quindi saranno veramente questi 16 giorni che si articoleranno in un convegno in Sala Consiliare il giorno 25, poi ci sarà la manifestazione con i panificatori di Pescara che hanno sempre collaborato, ci sarà Pesca nella rete che è un seminario e un grandissimo concerto della cantante Liguea che è la testimonial per la regione Marche della violenza contro le donne. Quindi per le donne, le ex fidanzati, mogli, avere il coraggio, trovare il coraggio di denunciare e far emergere il problema, ma chi è ricettivo in questo caso a forze dell'ordine istituzioni a comprendere e sapere come affrontare queste segnalazioni? Le istituzioni si stanno dando molto da fare, noi abbiamo un partenariato veramente nutrito, io trovo che oggi come oggi quello che manca è veramente il rispetto e noi donne dobbiamo unirci veramente tutte quante per inculcare il rispetto, insegnare il rispetto ai nostri figli per i più deboli e per noi donne perché non ci può essere la giornata della festa della donna se noi non arginiamo questo fenomeno veramente indecente.